Tutti noi sappiamo che è un derby, è una partita importante per tutti noi, ma sono solo tre punti che stiamo giocando e che vogliamo vincere per avere questi tre punti. L'ambizione deve stare sempre presente qui e dobbiamo giocare ogni partita con ambizione di vincere. E questo non può mancare nella squadra. Noi vogliamo vincere sempre, pensando partita a partita, ma vogliamo vincere sempre. Mai è un vantaggio giocare senza pubblico. Io preferisco sempre, e penso che tutti i giocatori preferiscono sempre giocare con pubblico. Giocare senza pubblico è lo peggio che succede in questo momento. Tutti noi siamo con molta voglia di ritornare a avere pubblico in stadio. Non sono dubbio della formazione di domani. Sappiamo che Lazio è una squadra molto forte quando recupera la palla, esce forte nel contrapiede. Abbiamo lavorato e preparato come dobbiamo fare sempre, quasi in tutte le partite. Le chiedo, mister, come sta Pedro e le sue condizioni anche in vista di domani? Sta bene, sarà convocato.